In questo video faremo il test del vulcano Silver Fuji di Borgonovo, questo spettacolare grosso vulcano prodotto importato da Borgonovo. Qua dietro abbiamo le istruzioni d'uso, super interessante, miccia coperta dalla linguetta arancione, classico, Silver Fuji 190 grammi, l'esplosivo netto contenuto, veramente molto alto ragazzi, tenendo conto che tutto sommato non è così grande per essere un vulcano. Ci sono vulcani molto più grandi, lo vedete anche piazzato a terra, non è grandissimo, è veramente piccolino, ma 190 grammi è una grammatura veramente importante, che mi fa veramente presagire ad un effetto molto figo. Ma adesso basta con le chiacchiere e andiamo a vedere l'azione. Vediamo come sarà questo vulcano. In effetti lo vedete, è molto da festa per adesso, silenzioso. Viene a dire anche una cosa che potete usare con tanti ospiti, perché tanto non è che faccia chissà chi. Chissà che come stelle, come rumore, è molto tranquillo. Lo puoi tenere anche vicino alla festa, magari, banalmente. Però è una bella resa scenica. Aspetta, comunque sta andando su. Vacca se va su. Viva, brava Borgonavo su questo tono. Va come decolla! Mamma! Carino. E finisce pulito, silenzioso. E questo lo rende proprio adatto ad una festa, lo potete sparare lì anche in mezzo agli ospiti. Esatto, sì, sì. Grazie.